Una vera e propria tegola sul Pescara nel giorno della ripresa degli allenamenti, l'infortunio di Filippo Melegoni, per il quale si sospetta la rottura del crociato. Il centrocampista in prestito dall'Atalanta si è fatto male ieri nel corso della partita di Elite League giocata a Crienz in Svizzera tra la selezione under 20 dell'Italia e i pari età elvetici. Proprio in queste ore sono in corso gli accertamenti del caso, ma le prime sensazioni non sono affatto positive. Per il promettente centrocampista, 13 presenze e un gol con la maglia del Pescara, stagione finita. Oltre a saltare le ultime partite di campionato con il Delfino, Melegoni non potrà neanche disputare i campionati mondiali under 20, fissati dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, lui che è un pilastro della selezione del CT Paolo Nicolato. Per il giocatore il primo grave infortunio della giovane carriera, mentre il Pescara perde un calciatore importante in un reparto, quello di centrocampo, già accorciato numericamente dal mercato di gennaio, dalle partenze di Macin e Palazzi e l'arrivo del solo Bruno. Non il modo migliore di iniziare una settimana importante che porta al match di Lecce e nella quale Pillon contava di recuperare i reduci dalle nazionali, gli under 20 Capone e Antonucci, Memushai dall'Albania, mentre oggi chiude i suoi impegni con l'under 19 il difensore Bettella, e nella quale contava di recuperare altri infortunati. Era già rientrato in gruppo il capitano Gaston Brugman, non ci sono particolari problemi per Monachello e Del Sole. Le prime sedute settimanali aiuteranno a capire le condizioni di Ugo Campagnaro, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere pronto a riaggregarsi col gruppo in questa settimana. La presenza di Campagnaro è fondamentale, i numeri dicono che quando è titolare il Pescara viaggia a oltre due punti di media partita. Il Toro di Moron, se recupera, andrà comunque gestito in questa fase decisiva del torneo, quando il Delfino, in 12 giorni, scenderà in campo quattro volte. Domenica a Lecce, mercoledì in casa con Palermo, domenica 7 ad Ascoli e il 12 l'anticipo Casalingo con il Perugia. Un vero e proprio tour de force. Si avvicina il momento del rientro anche per Frank Canuté, ancora più urgente dopo il grave infortunio corso a Melegoni. Il centrocampista senegalese ha parlato delle sue condizioni e di un chiodo fisso. La promozione in Serie A. Adesso sono quasi rientrato, sto un po' meglio dai. Cosa hai avuto? Strappato il polpaccio. C'è stata anche l'assenza contestuale di Brookman, forse avresti trovato anche più spazio. Sei un po' rammaricato proprio di essere mancato in questo? Sì, quest'anno purtroppo infortuni, sono un po' ossicato, però è il calcio. È un Pescara che può lottare solo per i playoff o c'è ancora da credere alla promozione diretta? Secondo me c'è ancora da credere, perché tutte le partite magari sempre di vincere, però promozione diretta si può anche fare. Cosa chiedi da un punto di vista personale a questi ultimi due mesi di campionato? Niente, dare il massimo, aiutare i compagni per andare in Serie A. Quindi la Serie A è l'obiettivo del Pescara? Eh sì, ormai non siamo più da scondere, dobbiamo andare in Serie A. Alle vie del mare i biancazzurri domenica sera se la vedranno con una squadra che ha acquisito grande convinzione nei suoi mezzi come traspare dalle parole del tecnico Liberani dopo la goleata inflitta all'Ascoli. Noi abbiamo intrapreso questa strada dall'inizio. È normale che ogni tanto ci sono degli ostacoli o delle trappole che abbiamo pagato, però credevamo in quello che facciamo. I ragazzi, quando io trasmetto qualcosa con lo staff, li vedo che gli piace, sono interessati e lo fanno con entusiasmo. Qualsiasi idea di lavoro, qualsiasi modulo, numeri, quello che conta è quanto loro poi credono in quello che tu gli dici. E dal primo giorno ho avuto buone sensazioni. Poi è normale che la perfezione non esiste, i momenti di difficoltà ci sono stati e ci saranno sicuramente nelle prossime otto partite. Però abbiamo intrapreso questa strada e vogliamo portarla fino alla fine.